A volte i suoni nel box diventano la musica, la musica della tensione. La bicicletta è un'ottima, è molto bene, soprattutto quando è finito perfettamente e è riuscita. È un'ottima, 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 un'ottima. La bicicletta è un'ottima, 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 un'ottima. È un'ottima, un'ottima. Tutto il mio racconto è sui suoni. Se ho sentito qualcosa di strano, vedo che dovrei andare in pittà e guardare le meccaniche. Allora, guarda. L'ottima ergonomia delle chiavi Maschio Beta ci permette di avere maggior sicurezza, soprattutto nelle situazioni di tensione. Durante un turno, momenti concitati, sono sicuro di riuscire a fare un ottimo lavoro e dare sicurezza all'interno del box. In the last three years that I've been with the GRT team, not one mistake from the mechanic. Not going. For sure I've had moments where things are not going perfect and everything feels like it's going wrong. This is to test you to know how much you want this, like how bad do you want to achieve your goals. Ci sono dei momenti, specialmente quelli che precedono i turni, in cui si passa a quattro minuti prima del turno da un box rumoroso a quando tutti i componenti del team si mettono la cuffia. Gestire la tensione non è facile, specie per chi viaggia a 300 km all'ora. Quello del racing e delle gare è un ambiente fatto di tensione. La gara è quel momento in cui devi cercare di portare a casa il risultato e di mettere a frutto tutto il lavoro che hai fatto. La tensione è importantissima che non venga vissuta in maniera negativa dal pilota. Dopo il verde del semaforo, lì non è più tensione, è tipo adrenalina. Mi piace la musica, è la mia cosa favorita. Quando mi sono pronti, mi prendo la mia suit, ho sicuramente la musica. E ho ascoltato a tutto, come heavy metal, rock, country musica. Ho ascoltato a jazz, reggaeton. Ho ascoltato a tutti i nostri spettatori. E' un'ottima spettura. E' un'ottima spettura. E' un'ottima spettura. E' un'ottima spettura mi sembra di un motore. E' un belirito. Per fare una ris んviesi per la merda e avere takenze. Per fare 1 tennis. Questa è un'ottima spettura che sia un'ottima spettura asiata,